Dottoressa, come sta bene? Vestito nuovo? Vestito vecchio rimasto nell'armadio dal mio ultimo colloquio di lavoro, intorno al 2000. Fa colloquio di lavoro? Questo posto è una nave che affonda. Questo posto non affonda. Abbiamo dei problemi, ma li risolveremo. La Kayle ha convinto la Pegasus a tornare al tavolo per negoziare, è in riunione anche adesso, e porterà a termine la vendita. Andrà tutto bene. Come dice lei, ammiraglio. Bailey, ti prego. Stanno rivedendo l'offerta in base a tutte le defezioni. Non possiamo permetterci di perdere un altro chirurgo, soprattutto te. Me? Tu sei il cuore di questo ospedale, lo spirito. Tu dai l'impronta alla quale altri possono aspirare. Questo posto non funziona senza di te, giusto, Brooks? Come? Sì, certo. Bene, meglio che tu abbia ragione. Perché se questa barca affonda e io non ho il salvagente, ti vengo a cercare agitando pugni. E sono bassa, perciò attento ai colpi bassi. Sì, certo.